Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di un tema caldo dell'ultimo periodo, ovvero il bonus 200 euro, in quanto determinati tipi di pensionati rischiano l'esclusione. Vediamo quali. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Il bonus 200 euro pensionati porta con sé un dubbio non da poco, ovvero chi paga il beneficio a coloro che essendo lavoratori dipendenti andranno in pensione nel mese di luglio. Il problema avviene in quanto il decreto aiuti spiega che per i lavoratori dipendenti il bonus è pagato nel mese di luglio. Per i pensionati il bonus spetta per pensioni con la decorrenza entro il 30 giugno 2022. Se un soggetto lavora fino alla data del 30 giugno 2022 andando in pensione poi nel mese di luglio ci si domanda come sarà erogato il bonus. Ricordiamo che l'articolo 31 del decreto aiuti spiega che il bonus 200 euro spetta i lavoratori dipendenti che rispettano un requisito reddituale. Il bonus viene pagato direttamente dai datori di lavoro in busta paga nel mese di luglio. Il lavoratore dunque non deve fare nessuna richiesta. Il datore di lavoro recupera il beneficio poi con l'istituto della compensazione. Per quanto riguarda le pensioni è stato stabilito che deve però trattarsi di trattamenti pensionistici che devono avere una decorrenza entro la data ultima del 30 giugno 2022. Quindi sembrerebbe che chi termina il lavoro dipendente il 30 giugno sarà poi escluso dal bonus 200 euro dato che a luglio non avrà un datore di lavoro che gli potrà poi pagare il bonus direttamente nella busta paga e l'IMS non riconoscerà il beneficio poiché la pensione ha decorrenza dopo il 30 giugno. Ovviamente questo dubbio deve essere ancora sciolto e si aspettano notizie certe in merito. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per la visione!